Ceriano, Laghetto e Valle Olona, appaiate a quota 8 punti in classifica, cercano una vittoria per allontanare definitivamente le zone calde dei play-out. Pronti via, è la prima occasione per il Ceriano, ma il tiro di Cotugno è tutta forza e poca precisione, col pallone che si perde sul fondo. Meglio però la squadra di Britanni in avvio, palla recuperata e verticalizzazione innescare Gerevini, il pallonetto del numero 11 però va alato di un nulla con i compagni che si disperano. Esce alla distanza il Valle Olona, bella palla dentro per Truglio che prova il diagonale, ma arriva bene, ci mette il piedone per dire no al numero 7, Rossoverde. Emozioni da una parte e dall'altra, torna pericoloso il Ceriano con una bella serpentina di Cotugno, scarico per la conclusione di Meroni, tiro potente e alato non di molto. Dall'altra parte anche il Valle Olona ha una chance importante, apertura per Cesaro, ma sul cross del numero 8 un difensore toglie il pallone dai piedi di Gazzardi, poi il Valle Olona va comunque al tiro, Murato. La squadra di Miniti però prende coraggio, azione convulsa, prova a mettere ordine Truglio che appoggia per Albanese, chiude troppo il tiro, il numero 10, ma il Valle Olona è cresciuto ed è ancora pericoloso, cross dalla destra dice Resani e colpo di testa dice Cesaro, il tentativo del numero 8 va alato. Torna a farsi vedere il Ceriano nel finale, sul cross dalla sinistra però nessuno riesce a intervenire, poi sul pallone è liberato, prova alla conclusione Meroni ma il pallone si perde sul fondo. Con le immagini nella ripresa dopo lo 0-0 del primo tempo, ancora Meroni che salta un avversario, prova l'assist per Riboldi e Di Vito, tiro di quest'ultimo ma il diagonale va alto. Bella partita tra Ceriano e Valle Olona, i padroni di casa meglio in questa fase, ancora Meroni prova a mettersi in proprio rientrando sul destro ma la difesa del Valle Olona si salva. Reazione dei Rosso Verdi con una palla dentro per Ceresani, il numero 4 cerca Gazzardi ma il centro avanti non trova lo specchio. Tante emozioni ma fin qui nessun gol ma la partita è pronta a accendersi, rimessa laterale del Ceriano cercando Riboldi, il numero 9 gestisce palla, va via Castellazzi e da posizione defilatissima trova il destro vincente che vale il vantaggio, Brianzolo esulta il Ceriano Laghetto che abbraccia il suo centravanti per un gol importante che porta i padroni di casa avanti nel punteggio. Il Valle Olona però prova a reagire in maniera immediata, cross sul secondo palo dove Meriggi controlla bene e scarica per Ferrenti ma il numero 2 si divora così, la chance del pareggio. La squadra di Minniti però non demorde, continua ad attaccare, lancio lungo di Ceresani per la corsa di Rappa, tiro da fuori parato da Rivabeni, poi sul tapino altro clamoroso errore di Mocchetti, il Ceriano tira un sospiro di sollievo ma non esce più dalla sua area, poco dopo è monumentale a Rivabeni con i riflessi a dire no a Ferrenti, ma alla lunga gli sforzi vengono premiati, Mocchetti si frappone sul tentativo di rinvio di Di Patria e l'arbitro concede il calcio di rigore, dal dischetto si presenta Salatino che non dà scampo ad a Rivabeni segnando così il gol dell'1 a 1 che di fatto è anche l'ultima emozione di un match che finisce in parità.